in questo video ti racconterò ben tre motivi per non non abbonarti a questo canale ma come abbonarti non è iscriverti e sì ci sono tre modalità in realtà che abbiamo attivato su questo canale e che ti possono interessare te le faccio anche vedere ma si te le faccio vedere la prima è l'iscrizione la seconda è la donazione la terza è l'abbonamento e adesso ti racconto bene le tre differenze di base l'iscrizione è quella gratuita quella che tu hai sempre fatto quello che ti permette di goderti gratuitamente i video su questo canale youtube ti iscrivi mi raccomando attivi la campanellina altrimenti non ti vengono notificate che cosa la pubblicazione di tutti i video le automazioni di tutorial le figate tutta la roba bella che pubblichiamo ogni settimana gratis su questo canale youtube la seconda cosa è la donazione che cosa è la donazione bene sotto un qualsiasi video di questo canale youtube trovi una voce dona è una donazione è un regalo mi offri un caffè una birra un quello che ti pare per magari ringraziarmi ringraziarmi del video che ti ho pubblicato del della rogna che ti ho risolto della cosetta è una donazione un regalo un omaggio chiamala come ti pare a te una cosetta una tantum che fai ma poi ci sono gli abbonamenti gli abbonamenti a differenza della donazione che è una volta sono mensili ti puoi cancellare quando vuoi tu ma ogni mese doni una piccola parte e in questo caso hai anche dei vantaggi e adesso te li racconto per appunto sostenere come si dice questo canale youtube allora io prima ti racconterò tre motivi per non abbonarti poi se casomai proprio ancora ti interessa guarda questo video fino alla fine e scoprirai come abbonarti quali sono i vantaggi partiamo dal primo motivo guarda tu dici stefano io lo stress e il caos ma proprio mi piacciono un sacco quindi le tue automazioni non mi frega niente voglio vivere nello stress e nel caos fare tutta la roba a mano voglio farmi il fegato amaro e quella roba mi va bene amico mio amica mia non so che cosa ci fai a vedere questo video il mondo è pieno di cose belle che puoi fare non solo non abbonarti ma non iscriverti neanche a questo canale perché sei completamente sbagliato proprio palazzo qui si parla di lavorare meno e meglio di vendere di più senza stress grazie al magnifico mondo delle automazioni di business bene ci siamo ma questo era solo il primo motivo per non abbonarti ma poi c'è il secondo il secondo motivo per non abbonarti è rullo di tamburi che bello aspettare aspettare sotto la pioggia aspettare che cosa aspettare due cose la prima aspettare il video perché per gli abbonati li pubblicherò in anteprima in anticipo e quindi dovrei aspettare se non vuoi abbonarti dovrai aspettare il video normalmente gli abbonati lo vedono un pochettino prima ma soprattutto aspettare il video che serve a te perché gli abbonati potranno votare quelli che sono i contenuti per loro più interessanti che quindi avranno priorità di pubblicazione su questo canale youtube se a te non interessa aspettare va benissimo l'iscrizione con la campanellina se invece vuoi qualche cosina in più ti faccio vedere adesso gli abbonamenti ultimo ma non per importanza beh a me non piace avere le risposte nel senso commenti 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 fino ad oggi abbiamo risposto e anzi ho risposto personalmente a tutti i commenti che sono arrivati su questo canale youtube difficile che me ne sia perso qualcuno solo che cominciamo a diventare tanti cominciamo a diventare tanti lo vedi qui sotto dal numero degli iscritti e i commenti sono sempre tantissimi e io mi rendo conto che sono al limite non ce la faccio a rispondere più a tutti e allora devo dare una priorità devo dare una priorità e la priorità la do a chi sostiene il canale perché grazie a questo investimento mensile che viene fatto nel canale una birra che mi si offre ogni mese io riesco a portare avanti il canale con maggiore qualità o comunque con la qualità che ho sempre promesso su questo canale quindi queste sono le differenze tra chi ha l'abbonamento e chi non ha l'abbonamento vedere questo canale gratuitamente senza abbonamento è ancora possibile non cambia assolutamente nulla ma se vuoi qualche cosino in più qualche vantaggio in più qualche chicca in più e soprattutto vuoi ringraziarmi e sostenere questo canale ci sono gli abbonamenti adesso arriva la parte interessante che la scelta resta a te io ti faccio vedere che tipo di abbonamenti abbiamo lanciato su questo canale velocemente come attivarli poi ci vai a vedere tu se ti interessa o meno questo è il tastettino diciamo l'interfaccia di abbonamento vai qui vai sulla voce di abbonati come vedi ci sono tre livelli di abbonamento sono crescenti ogni livello include il precedente quindi il livello 3 che si chiama ti voglio bene include il livello 2 che si chiama mi aiuti un sacco e include anche il livello 1 che si chiama ma grazie il livello 3 include il 2 e l'1 il livello 2 include l'1 l'1 include solo il vestito è un solo livello ok cosa puoi fare? in primo caso puoi avere dei vantaggi soprattutto quello che è la risposta per aiutare i commenti è un piccolo investimento di una birra al mese una cerveza al mese come si chiama dove vivo io la seconda cosa avere diversi vantaggi qual è il vantaggio principale? ci sono i sondaggi i sondaggi che facciamo per poter scegliere quale video dare quale video dare priorità nel calendario di pubblicazione e l'ultimo il ti voglio bene ottiene una serie di vantaggi tra cui video e live in esclusiva per gli abbonati 10% di sconto sul servizio di prima consulenza guadagno di crediti per comprare o avere accesso gratuito ai corsi della nostra accademia e inviti gratuiti a conferenze, eventi dove ci possiamo vedere e magari quella birra berla insieme non vado ad approfondire molto questo mondo ti dico se ti vuoi iscrivere e non l'hai mai ancora fatto per me significa tanto iscriviti a questo canale attiva la campanellina e godi con me nel viaggio verso l'automazione del mio e del tuo business se invece vuoi qualche cosa in più e soprattutto vuoi supportare questo canale grazie ti ringrazio in anticipo ti ringrazio anche solo perché cliccherai sul pulsante abbonati dove troverai un video che approfondisce un pochettino meglio i dettagli di ogni livello e grazie 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 davvero per solo il pensiero per poterti abbonare e soprattutto supportare questo canale aiutarmi a produrre video di qualità aiutarmi a comprare nuovi strumenti di automazione da testare con te e mostrarteli nei video settimanali da anni non manchiamo mai un video a settimana ti invito davvero ad iscriverti e se ti va anche ad abbonarti grazie davvero